Il tentativo è stato fatto. I vertici della SRR4 con l'obiettivo di sbloccare la stasi piombata sulla procedura per l'affidamento del servizio rifiuti in città hanno chiesto un nuovo parere all'autorità anticorruzione. Il presidente Filippo Balbo dopo essersi consultato con il RUP, l'ingegnere Grazia Cosentino, dirigente a Palazzo di Città, è convinto che si possa intraprendere la strada della procedura negoziata o un eventuale affidamento del servizio anche per pochi mesi in attesa che si arrivi alla gara da sette anni. L'appalto per il lotto di Gela è rimasto sospeso dopo cinque procedure andate deserte se negli altri comuni della SRR, seppur al termine di una sequela piuttosto lunga di difficoltà, sono stati firmati i primi contratti con la ECOS SRL che si è giudicata il lotto dei sei comuni. A Gela invece non si riesce a comprendere quale scenario potrà aprirsi a fine novembre quando scadrà l'ennesima proroga in favore di Tecra. Manager dell'azienda Campana con una missiva ufficiale hanno fatto sapere che non accetteranno nuove proroghe. La ANAC inoltre ha bocciato il nuovo contratto che era stato definito tra il comune e la società. Dalla SRR fanno sapere che prima di puntare su questa nuova procedura negoziata serve non soltanto il via libera dell'ANAC ma anche dell'assemblea. L'affidamento breve dovrebbe servire a coprire il periodo transitorio prima di arrivare alla gara da sette anni valida per l'intero ambito e che secondo le previsioni dei tecnici SRR e della RUP si potrebbe celebrare al massimo entro la metà del prossimo anno. Una vicenda diventata sempre più difficile da dipanare prima dell'estate ci sono state verifiche e perquisizioni disposte dalla magistratura che avrebbe avviato anche un filone di indagine sull'intera vicenda dell'appalto di Gela da anni ormai portato avanti in proroga.